Mo' io lo so no? Cioè lo so che non mi dovrei incazzare in amichevole, ma mi incazzo proprio per la scarsa credibilità di merda che ogni volta ci dovete dare Perché uno come me deve rimanere venerdì sera a guardarsi l'amichevole della Roma, uno perché ci lavora, due perché gli piacerebbe vedere qualcosa E noi dobbiamo piarare gli schiaffi in faccia d'arcadice, cioè a me va bene tutto no? Mo vabbè sono amichevoli, non me ne frega un cazzo Però regà veramente ma siamo inguardabili, ma siamo inguardabili e continuiamo ad essere inguardabili Cioè ma le amichevoli sono amichevoli e va bene, ma servirebbero per arrivare preparati all'inizio del campionato Questa è la preparazione, non siamo stati capaci di vincere una partita in Giappone, una con le squadre giapponesi se non sbaglio abbiamo fatto 0 a 0 e 3 a 3 Cioè regà ma di che cazzo stiamo parlando? Io oggi pure la figura di merda con il cadice, con il cadice, mannaggia mi stanno pure a chiamare Con il cadice, la figura di merda oggi anche con il cadice, cioè ma non si può fare, ma non si può fare, ma ogni volta, ma puntualmente, ma che pale Ma a uno gli passa anche la voglia di mettersi a guardare, io tra tre giorni giochiamo con il casapia, con la casa dei riposoli, non lo potevamo perdere Pure con quelli, noi siamo capaci di perdere anche con quelli E io vi ripeto, io vi ripeto, non è un problema di perdere con il cadice un amichevole E che gli amichevoli, come dicono sempre, sì che sei tranquillo perché gli amichevoli servono per preparare Cosa vuoi preparare? Cioè cosa stiamo preparando noi? Che non si reggemo in piedi Ma che stiamo a preparare? Che non siamo riusciti a vincere una partita in tre amichevoli, una con il cadice e due squadre giapponesi Ma che vogliamo preparare? Ma questa è la preparazione Poi ho delle domande, allora a parte vigna, a parte vigna, io ho un problema Io odio vigna, cioè non è cattiveria, ma io odio vigna Oh, avete presente quando c'è un giorno che vi sta proprio qua? Vi sta qua? È inutile, è inutile, io odio vigna E raga, è questo, è questo perché io sono sempre propenso Se vigna inizia adesso la stagione, fa una stagione super dignita Io sono propenso a dire, a un vedi vigna, a me che cazzo me ne frega Cioè io sono solo che contento se vigna svolta completamente e diventa un giocatore di pallone Ma oggi non è così, oggi non è così Ho già preso cartellino rosso, tu puoi prendere un rosso diretto, tattico A 35 minuti dalla fine, dall'inizio, non dalla fine, dall'inizio Talmente tanto giusto che lui lascia dal campo senza protestare Ma fallo segnare, ma che cazzo me ne frega Continuiamo la partita in 11 Cioè tu hai portato a giocarci un amichevole in 10 contro 11 Quindi hai sminchiato anche il piano tattico Perché l'amichevole si fa per il piano tattico Quindi magari Mourinho vuole la prova a 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 5 Quello che cazzo gli pare a lui vuole la provare No 3, 4, 3, tutto Non poteva perché ha dovuto giocare con un uomo in meno per tutta la partita Perché? Perché, e riattacco che mi stanno richiamando Perché tu sei un minchia Perché in quel caso lì sei un minchia Lascialo segnare e poi proveremo a riprenderla Tutta la partita in 10 uomini Contro 11 Poi, noi perché siamo fenomeni Riusciamo a prendere un gol per tempo Proprio, sai che vuol dire Regolare Regolarizzare Ci hanno regolati Il cadice Il cadice Ma mi spiegate io perché me lo fa venire fecato amaro Io stronzo che mi guardo le amichevoli L'altra volta c'era il mondiale E io Roma Jumping on Non me la so guardata Infatti, tant'è che qualcuno mi ha chiesto Sì, ma l'amichevoli della Roma Mi ha detto Regà, c'è il calcio C'è il mondiale Della amichevoli della Roma in Giappone Contro il Changming on Non me ne frega nulla Visto gli highlights 3 a 3 Mi pare, non manco mi ricordo più Una partita De merda Difensivamente inguardabile Ma come al solito Questa è la Roma Non ci sono novità Questa è la Roma Questa è la solita Roma Questi siamo noi Ok? Oggi ho detto Non c'è calcio Oggi è stato il mio Ma ne parliamo Ma noi è una squadra di merda Di merda Capace di farsi umiliare Anche contro il Cadice Cioè Per me è impensabile Vi giuro Ve lo giuro Ve lo giuro Ve lo giuro E la cosa che mi dà più fastidio È che Se queste sono le amichevoli Per la preparazione Alla stagione Ma che cazzo stai preparando? Che cosa stai Che cosa In che cosa li stai preparando? Dopo la partita di oggi Possiamo dire che la Roma È più preparata Perché? A più schiaffi È più preparata Santi Dio Oh santi Dio E me dovete sta merda Questa merda Mamma mia Oggi Pomeriggio I tifosi del Milan Quanto meno Quanto meno Hanno perso 4-1 Contro il Liverpool Prendendo anche loro Nel risultato Una sonora sveglia Però diciamo le cose come stanno Il Milan Mi pare va sotto Con il gol di Salah Bel tiro da fuori Ma è Salah Poi se non erro Pareggia Con un gol tra l'altro Straordinario Prende Di Selmeker Che fa un gol Veramente fantastico Serpentina Calcio forte Poi Prende il 2-1 Ma Riesce a prendere Anche una traversa E rimane in gioco Fino all'ottantunesimo Ovviamente All'ottantunesimo Il Milan che ha fatto Ha provato a riprendere La partita Perché è un amichevole Perché fai i test Perché Perché ci provi Perché hai delle chance Ricordatemi Che ricordatemi Non rispondete Però devo dirvi una cosa Da Roma Fai dei test E quindi Facendo tu Dei test Ci sta che poi Alla fine Ti butti in avanti La ricerca del pareggio E dopo Alla fine A 9 minuti Dalla fine Hanno preso 2 gol Doppieta di Darwin Nunez In cui appunto Con 2 giocate Ha distrutto Ha spaccato in 2 La difesa del Milan E tutto sommato Ci sta Tutto sommato Ci può anche stare Tutto sommato È accettabile Mi può andar bene Se fossi tifoso del Milan Mi potrebbe andar bene Perché alla fine È vero che hai perso 4-1 Ma 1 era il Liverpool Non era il Cadice E 2 comunque Fino a 5 Dalla fine Tacci Mi sono cagato sotto Vuoi entrare Ciao Allora La Roma sta perdendo Con il Cadice E il Milan oggi Ha perso 4-1 Con il Liverpool Però il Milan Ha fatto una buona partita E Aspetta eh Il Milan ha fatto una buona partita E non so se tu conosci La forma Del 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 pallone No Non so se conosci la forma Del tabellone del Milan Che sta giocando il torneo Sta giocando un torneo Dubai Ah quello Dei rigori Sì Quindi praticamente Loro vincono Perdo Comunque poi giocano i rigori Sì Hanno perso 4-1 Poi ai rigori Mirante Ha parati praticamente tutto Hanno vinto Quindi hanno preso un punto L'unico punto del torneo Perché erano due partite Ha perso due volte Con l'Arsenal Regolamentari e rigori E ha fatto un po' In chiude con un punto Alla fine Questo è Però Dicevo Almeno il Milan Ha provato a cacciare la scienza Ha preso un'altra Ma ha preso due gol Negli ultimi 5 minuti A parte che gioca contro queste squadre Già non conta niente Non conta niente ragazzi Cioè il fatto che il Napoli Abbia vinto Il 3 a 2 Non mi ricordo Sì Contro il La squadra turca No il Galatasaray No il Feyeno No il Feyenoord è olandese Secondo me è tipo contro Fenerbahce Il Tramsos Cioè non conta un cazzo Però comunque ti Affronti quei giocatori lì Cioè un po' ti mantieni Qualcosa vedi Qualcosa vedi Soprattutto alle seconde linee Il Milan non l'ho visto Ho visto Torichi Nella prima partita Peso la traversa Peso la traversa No ma poi la cosa che dicevo io È che oggi la partita della Roma Cioè la Roma va sotto Poi Che succede Che Vigna Fa un fallo da ultimo uomo Prende il rosso Dopo mezz'ora E noi giriamo tutta la partita In 60 minuti In 10 Ma tu vuoi fare un fallo da Cioè ma lascialo far gol Poi dopo valutiamo la partita Chi se ne frega È un amichevole Cioè magari Murigni Voleva provare determinati schemi Non ha potuto Perché abbiamo fatto tutta la partita In 10 Ma Vigna Sei un coglione Come fai a prendere il rosso La rosso diretto Sei un coglione E per concludere Poi concludiamo Una cosa che Non capisco E che mi infasidisce tanto È che Che sia giusto o meno Murigni ha messo All'agonia Carsdorp Oggi Carsdorp gioca a titolare Cioè tu cosa stai Perché stai provando Tu mi dici Non ho un terzino lì A parte ce l'avevi Perché poi sei lì Che entra a fine primo tempo Ma o hai deciso Di riintegrarlo in rosa E quindi per me Hai fatto un'uscita di merda E sei un coglione Oppure sei un coglione Dello stesso Perché non farlo giocare Piuttosto titolare Se devi fare delle prove Per il ritorno Visto che tra una settimana Lo fionderai ovunque Appena arriverà un'offerta Questo è vergognoso Eh Ma che cazzo Ecco Fatemi sapere la vostra Iscrivetevi al canale Io vi ringrazio Carsdorp Era palesemente Una scusa Per spostare L'occhio Da quello che erano Le prestazioni E metterle su Carsdorp Stop Anche perché Se un giocatore Fa l'ammutinamento Come dici te Altro che campo Altro che amichevole Statta a caso Neanche ti alleni Un saluto Alla zia De Carsdorp E buonasera a tutti